Ciao a tutti, mi chiamo Elena Sprocatti, ho 19 anni, mi sono diplomata nel 2020 frequentando il corso di arti figurative e dopo la scuola mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti di Bologna, che tuttora frequento. Per me le cose più belle del Munari sono inquantificabili perché sono stati gli anni più belli della mia vita, ma sicuramente quello che poi mi è rimasto di più sono le innumerevoli esperienze che mi ha permesso di fare non solo in ambito artistico. Mi sento di consigliarvi di seguire voi stessi e basta, non gli altri, nella scelta della scuola e soprattutto di scegliere il Munari se volete una scuola che non vi dia solo le 5 ore la mattina e che vi insegni solo a studiare, ma se volete una scuola che vi insegni a vivere a 360 gradi e che vi regali delle esperienze che credo nessun altro liceo possa dare, allora il Munari alla scuola che fa per voi.